Come Associazione Pertini avete appena consegnato dei presidi sanitari ai medici che si sono impegnati nel centro sociale di Ceparana nella lotta contro il Covid-19, un gesto di riconoscenza verso dei professionisti che sono in prima linea da tanto tempo in questa emergenza. Noi come Associazione Pertini abbiamo pensato di stare vicino a questi medici, si sono impegnati e quando abbiamo potuto abbiamo consegnato anche in altre situazioni questi dispositivi medici che sono preziosi e si trovano con molta difficoltà. Questo è un modo come un altro per far sentire la nostra presenza sul territorio e anche pur essendo l'Associazione Pertini un'associazione che fa attività di altro tipo, a questo punto ci siamo messi a disposizione per la sanità. Mi diceva adesso senza retorica che anche prima della consegna di questi dispositivi i medici si sono impegnati con protezioni di fortuna. Questo sicuramente in tutte le situazioni e quindi purtroppo questa pandemia ha colto l'Italia e la nostra sanità in preparata.